Siamo con Paolo Tamburini, responsabile del servizio comunicazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna. A lui chiediamo, in tema di sostenibilità energetica, quale iniziative sta portando avanti la Regione per migliorare l'efficacia della comunicazione e dell'informazione ai cittadini? Proprio in questi mesi le diverse strutture della Regione che si occupano di comunicazione, educazione, sviluppo delle politiche energetiche e ambientali hanno messo in campo un progetto di sistema che si chiama Educazione all'energia sostenibile che si propone appunto di accompagnare nei prossimi anni e da oggi ai prossimi anni lo sviluppo e l'applicazione del piano energetico regionale. Questo è particolarmente importante perché le politiche, le principali politiche regionali di sviluppo sostenibile hanno bisogno di azioni mirate, comunicative, educative, partecipative che siano di affiancamento e di supporto a quegli obiettivi, a quelle azioni di quei programmi. Quindi in questo senso ci avvaliamo di un'importante rete regionale che è la rete dei centri di educazione ambientale, quindi coinvolgiamo le strutture sul territorio, degli operatori particolarmente qualificati e competenti che già lavorano con le scuole, con i cittadini, proprio in una importante funzione di interfaccia tra la pubblica amministrazione e i cittadini nel proporre, nel declinare i temi appunto delle politiche ambientali energetiche e di sviluppo sostenibile dal punto di vista appunto della comunicazione e dell'educazione. Quindi nei prossimi anni e da oggi svilupperemo delle azioni molto mirate a livello informativo, a livello comunicativo, a livello formativo, quindi con le scuole e a livello partecipativo, quindi coinvolgimento dei cittadini. Le iniziative cominciano proprio nei prossimi mesi e ci sarà un Info Day Energia Education il 15 e 16 ottobre 2011 che sarà sviluppato in tutte le principali città della regione. Il progetto peraltro prevede di modellizzare, cioè di portare a sistema le tante iniziative che sono state fatte in questi anni e di uniformarle dal punto di vista della comunicazione e del metodo educativo e quindi di offrire alla cittadinanza un progetto uniforme che abbia una sua forza maggiore proprio in virtù di questa modellizzazione.